il calcio di punizione già battuto da Sighieri Tornatore la sponda Tortolano che ha fatto Tortolano un tiro al volo splendido che vale il vantaggio su sponda di Tornatore un'esecuzione meravigliosa quella dell'ex giocatore del Latina al minuto numero 18 l'atletico in vantaggio ha firmato il gol dei padroni di casa Tortolano un gol splendido dalla tre quarti di campo